Da Incenti quest'oggi è un viadotto che passa sotto il via dei Gasperi, via Maestri del Lavoro e una situazione, insomma, sono già lavori tecnici del comune? Sì, questa mattina intorno alle 9, 9 e mezza un camion provvisto di gruetta è transitato sotto il viadotto di via Maestri del Lavoro, c'è la strada che è da via Verardi di porta a parco fluviale, risalendo da parco fluviale verso via Maestri del Lavoro, non chiedo scusa e ha toccato con la gruetta le strutture di incionamento armato di questo viadotto. Due travi sono state particolarmente segnate dall'impatto, sono intervenuti i vigili del fuoco al quale ringraziamo ovviamente la Polizia Municipale e subito anche un tecnico incaricato dal comune, uno strutturista per verificare se il danno può provocare la chiusura del viadotto oppure come intervento immediato abbiamo limitato quindi la carreggiata su via Cide Gasperi, il tratto dalla rotatoria di San Michele fino all'incrocio di via Maestri del Lavoro e abbiamo lasciato chiuso invece la strada sottostante affinché la ditta già da adesso possa intervenire per preparare tutti i lavori che saranno necessari per ripristinare, per mettere in sicurezza il viadotto. Sarà un intervento veloce. Però è un bel danno abbiamo detto. Il danno è importante perché parliamo di una struttura di incionamento armato gettata in opera che è stata, i ferri sono totalmente a vista e quindi ci sarà da intervenire in un modo chirurgico e nello stesso tempo saranno delle verifiche proprio, dei calcoli matematici per verificare che tipo di intervento bisogna fare per ristabilire la sicurezza e la viabilità. È la prima volta che accade. Capitano anche di frequente queste cose, forse a terra non era mai capitato, ma è sempre una prima volta.